E siamo nel ventre della madre, nel ventre di Gia, nel ventre della terra. Questa grotta ha migliaia e migliaia e migliaia di anni. E a parte l'energia che respiri qua sotto, i guardiani, gli elementari, senti la voce della madre. Ora ho capito perché mi hanno chiamata qui. Mi hanno chiamata qui perché c'è un antichissimo portale nel ventre della madre. E qui siamo dieci metri sotto, ma è stata scoperta da 94 anni, ma è tutto naturale, persino il presepe non è costruito d'uomo. È tutto naturale, costruito dalla madre. È veramente impressionante. E qui reciterò il codice della terra ed entrerò in contatto con Gia. Darò anche a voi queste informazioni e quello che riceverò per condividerlo. Perché presto si apriranno e si attiveranno tutti questi portali. Perché la terra ci sta parlando. E la sincronicità, o meglio i maestri, hanno voluto che io facessi il seminario e l'apertura del portale a Roma sotto la superficie della terra, in un semi-interrato. E mi hanno ricondotta qui, ancora, nel ventre della madre, sotto la superficie della terra, per attivare da sotto e non da sopra. Come in alto così in basso, come in cielo così in terra. E tutto parte dal ventre di madre terra. Chi ha orecchie per intendere, intenda. L'acqua qui bacia la terra in continuazione. Acqua e terra si sposano. Ed è la grotta delle meraviglie, non a caso. Sì, 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 c'è abbastanza, però tenetevi per me, perché si può uscire un po' a mano. Ci siete? Sì, sì, si tocca. E tutto a posto, non salite con l'intelità. Allora, se posso fare una cosa, uno che è presto, però se non dice la maledà, viene la meno perché mi viene...